un pacco enorme vediamo che c'è aiuta la mamma però stai sul tavolo attenta a fifi che c'è qui anche un pacco anche un pacco piano perché queste sono cose delicate ti deve aiutare mamma tua tanti altri pacchi fermo con queste manine sono belli guarda fermo amore guarda che carini facciamo vedere queste sono le bomboniere dei fratellini queste sono le altre bomboniere che non le possiamo aprire però vedi guarda che belle lo sai che ce l'avevi anche tu le bomboniere quando sei nato che cadi oh cade cade ti piacciono? si eh amore? si bello sei contento? ecco su gioca con la carta bravo mamma si tiene nel bomboniere va bene amore? si senti ma saluti? si saluta un po' saluta tanti saluta un po' guarda che filippo sta salutando bravo bravo grazie Grazie.